Gara tra Nonna Toia e Brigata, il punteggio di 3-1 a favore per Nonna Toia. Uno sfortunato autogol di Matregano, sta sicuramente condizionando tutta l'andasso della gara. Nonna Toia è riuscito quindi piano piano a riprendere l'inizio del match. Adesso questo pallone che viene sbagliato da Nastro, Iamunno prova a ripartire, seguito da Langella. Iamunno allarga il gioco, invece prova a fare tutto da solo. La palla che viene intercettata, è palla che termina fuori di messa laterale. Matregano adesso diciamo il suo turno per stare fuori, Brandi, il tocco per lo Iacono, il destro pallone che viene rimpallato. Ancora lo Iacono prova a tenere viva l'azione offensiva della brigata. Iamunno, Iamunno ancora in azione solitaria, Iamunno dentro e pallone per Langella. Langella il tiro, il pallone che si perde fuori, anzi no, la palla è stata intercettata quindi ci sarà un calcio d'angolo. Dovrebbe essere Angelone sul punto di battuta solo, Iamunno da solo! Il destro che termina fuori dall'altra parte subito invece lo Iacono salva tutti. Ancora Iamunno potrebbe anche provarci, Iamunno ci prova! Salva il portiere in calcio d'angolo, grande chance di Iamunno che si dispera. Ancora Iamunno sarebbe solo, Iamunno infatti diceva il pallone, punta l'avversario, non riesce a saltare. Palla viene spazzata, è netto questo fallo. Iamunno sta sicuramente dando la carica ai suoi, Iamunno potrebbe anche calciare di prima. Viene giustamente bloccato da un avversario che quindi richiede la distanza. Va Iamunno a cercare questo calcio di punizione, è buona la posizione. Vediamo Iamunno se riuscirà ad accorciare definitivamente distanza per 3 a 2. Iamunno, parte il tiro! Giustamente c'era uno spiraio, Iamunno ha cercato di trovare proprio un gran gol, la palla però non è passata. In pressing la brigata non riesce ad andare in avanti. Pallone che viene ridato nel campo. Vediamo questa ultima azione, poi interrompiamo il nostro collegamento. Palla lunga, si nasconde Nastro però dagli avversari che viene fermato, fallo, fallo, Nastro, netto, sono anche le immagini. Attenzione lo Iacono, lo Iacono provano ad andare da solo, cicca malamente il pallone. Poi parte il destro, la parte di Angelone. E ancora pallone che viene salvato, lo Iacono dentro per Iamunno, partita davvero incredibile. Iamunno, falla che arriva l'Ancella, dentro per Iamunno, pallone intercettato. Lo Iacono non ci arriva, il portiere esce, blocca la sfera. Ancora Brandi, Brandi, Brandi provano ad andare, Brandi. Il destro, palla sul fondo, interrompiamo qui il nostro collegamento.